Tutta la città e quindi anche la nostra emittente televisiva è pronta per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018. Un anno, quello appena trascorso, di grandi cambiamenti. E come sempre nel dare l'addio al vecchio anno, Tele Liguria Sud ripropone a tutti i fedeli telespettatori i fatti più salienti accaduti in questi 12 mesi. Attraverso alcuni dei servizi realizzati durante l'anno, ripercorreremo quanto accaduto nella nostra provincia con il consueto appuntamento con l'anno di cronaca. Lo speciale andrà in onda la sera del 31 dicembre e sarà riproposto per tutta la giornata del 1 gennaio 2018. Come anticipato, quello passato è stato un anno di cambiamenti epocali. Quello più significativo riguarda la sfera politica. È Pierluigi Peracchini, il nuovo sindaco della Spezia. Dopo 46 anni di governi di centro-sinistra, la città passa per la prima volta al centro-destra, vincendo le elezioni amministrative al ballottaggio. Ma tra le vicende più rilevanti che ripercorreremo nel corso del nostro speciale, vi parleremo della questione che ha coinvolto la tenuta di Marinella, il PUC, il declassamento dell'ospedale Felettino e la vicenda relativa all'aggregazione a Camiren. Questo e molto altro andrà in onda nello speciale anno di cronaca. Grazie.